Maria e Carmen sono andati a Cinecittà World, si stanno divertendo tantissimo al parco divertimenti. Mamma che bello, siamo arrivati! Sì bello, oggi giornata a Cinecittà World, ci divertiremo come delle pazze, vero? Andiamo! Ciao, buon divertimento! Maria, sei pronta a questa discesa? Sei pronta? Guardate! Maria, mi hai fatto la doccia? Maria, vuoi una zucca? Vuoi un risotto alla zucca? Alla zucca, guarda quante zucche che ci sono qui! Andiamo a vedere, qui vieni qua, invece? Vieni, vieni qua, vieni qua! Vieni! Siamo in compagnia? Te la scatto io! Ma che carino, eh? Maria è una bambina molto bella e molto educata, è sempre sorridente, si diverte molto sempre con mamma e papà. Buon divertimento! Vieni, vieni qua!